I terreni incolti saranno affidati ai giovani del territorio che ne faranno richiesta per rimetterli in produzione e questa la sfida lanciata dal sindaco di Ori a Mauro Inverso. L'obiettivo della mission è quello di valorizzare le terre agricole incolte coerentemente con la tutela degli interessi sociali, economici e ambientali delle comunità locali per favorire il recupero delle aree abbandonate, contenere il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire l'ottimale assetto del territorio attraverso lo svolgimento delle attività agroforestali, tutelare l'ambiente ed il paesaggio e conservare la biodiversità. Ho lanciato una scommessa, quella di dare ai giovani che ne faranno richiesta i terreni incolti per rimetterli in produzione e come ho detto durante l'intervento, durante la presentazione Orria era un territorio che era il granaio dei Greci e quindi vogliamo almeno riprendere quell'identità culturale e come? Dando questi terreni ai giovani che ne faranno richiesta e soprattutto per due ragioni, una per mantenere l'identità culturale di cui noi andiamo fieri e orgogliosi e seconda per la salvaguardia del territorio perché altrimenti i dissesti geologici avanzano e avremo disastri e non più bellezze da salvaguardare. Ecco questo è il nostro obiettivo, è dura ma siccome siamo caparbi penso che ci riusciremo.